La nostra società è una società attiva da tantissimi anni nella produzione di poliuretani espanse rigidi e partecipiamo molto volentieri per la prima volta come espositori a questa fiera perché siamo venuti a presentare la gamma dei nostri prodotti ad alta densità che trovano un largo utilizzo nella prototipazione rapida, nel settore della modelleria e in particolar modo siamo venuti a presentare il nostro ultimo progetto che è questo prodotto che vedete di colore blu, è un materiale a 700 kg, un cella aperte è un progetto su cui la nostra azienda ha investito molte risorse, è un prodotto che stiamo lanciando e che speriamo abbia un grosso successo. Per il settore della modelleria e prototipazione abbiamo anche in gamma la produzione di adesivi poliuretanici mono e bicomponenti che vengono utilizzati per l'incollaggio dei nostri materiali. Vi invito per ulteriori informazioni a visitare il nostro website che è www.dunagroup.com Arrivederci a presto e alla prossima edizione.